Claudio D'Emilio, sindaco di Palena. In questo momento rappresento 41 sindaci del Sangro Aventino e Alto Fastese. Poco fa abbiamo inviato una PEC al Presidente del Consiglio e al Presidente della Regione, una richiesta finalizzata alla sospensione delle attività produttive nella zona Val di Sangro, soprattutto di quelle aziende che non producono beni primari in questo particolare momento di emergenza coronavirus. Da parte delle comunità locale c'è stato un ampio rispetto per quanto riguarda le prescrizioni dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo. La riduzione della libertà individuale, vale a dire quello di stare a casa, è stata percepita come un sacrificio giusto al fine di garantire la salute di tutti. Tutto questo verrebbe meno, soprattutto a causa di quegli assembramenti che si creerebbero intorno alle fabbriche della Val di Sangro e non. E sarebbe veramente un paradosso tenere i nostri bambini chiusi in casa e mandare i loro genitori al lavoro.